O lunedì, con la celebrazione della Domenica delle Palme di ieri, siamo entrati nella Settimana Santa, la settimana più importante per un cristiano dove ripercorreremo gli ultimi momenti della vita terrena di Cristo con la sua passione per giungere però al vertice della fede di questa settimana che sarà con la veglia pasquale del sabato sera. Dal Vangelo di oggi possiamo cogliere tutta l'umanità di Gesù. Sa che lo attendono giorni difficili, mancano sei giorni alla sua passione e avrà avuto il cuore in gola, avrà avuto sicuramente ansia, paura ed è più che comprensibile, è più che umano. E cosa fa? Va a Betania a trovare alcuni amici, Marta, Maria e Lazzaro. Tutti possiamo trovarci a dover affrontare dei momenti difficili per diversi motivi, per diverse ragioni, ma chiediamoci, abbiamo degli amici dai quali andare, con i quali trovare ristoro, con i quali confrontarci, sfogarci, consigliarci, dai quali ci sentiamo accolti sia nei momenti di gioia come in quelli di fatica e di dolore. È bello, è molto bello che non ci venga raccontato soltanto che Gesù si sia messo a pregare affidandosi al Padre, così come farà quando entrerà nell'orto degli olivi, nel vivo della passione, ma che ancora prima ha avuto bisogno di affidarsi all'affetto, ha voluto affidarsi all'affetto e all'amicizia di tre persone, di tre amici. Certamente al primo posto delle nostre amicizie è importante che vi sia Dio, Lui stesso ci ha detto che ci considera sui amici ed è in Lui che dobbiamo rifugiarci, tanto più quando ci troviamo nella prova, in quelle che sono le difficoltà. Ma non dimentichiamoci, come vedremo in questa settimana santa, che il cammino di fede non è solo questione di idee, non è un'astrazione, ma passa per la carne e credo che uno dei modi più concreti con i quali Dio ci fa percepire la sua vicinanza siano proprio i nostri amici, coloro che ci vogliono bene così come siamo in qualsiasi momento, proprio come ci suggerisce un passo della Bibbia, precisamente nel libro del Siracide, nel capitolo 6, versetto 14, dove si dice un amico fedele è rifugio sicuro. E io mi permetto di aggiungere, ed è riflesso di Dio. Buon inizio di settimana a tutti.